Una manifestazione nata da un comitato spontaneo, pacifica e partecipata da persone provenienti da tutto l'Abruzzo, siti in dinanzi alla regione per mettere in luce le difficoltà di piccole e medie imprese dei settori al momento più penalizzati. Ci sono titolari di imprese turistiche, di alberghi, ristoranti, operatori della montagna a chiedere attenzione ma non tanto ristori, piuttosto il diritto di poter lavorare in sicurezza. A un anno di distanza dall'inizio della pandemia questo non si può più chiamare uno stato di emergenza, è diventato uno stato di fatto. Abbiamo interi settori produttivi abbandonati e con tutti i loro indotti. È ora di fare qualcosa, abbiamo deciso di dire basta. Quello che chiediamo è una particolare attenzione al nostro settore perché il settore del turismo a livello nazionale produce il 13% di PIL, quindi non è che siamo una realtà invisibile. Per cui un'attenzione particolare, un tavolo di lavoro io immagino con le istituzioni sia locale che nazionale per portare avanti le nostre problematiche. Durante il periodo invernale non è che si chiude la porta e si chiude l'attività, l'attività comunque rimane in piedi perché il riscaldamento, specialmente noi che siamo sul Gran Sasso, insomma il riscaldamento deve andare, noi spendiamo dalle 3 alle 4 mila euro al mese di riscaldamento con l'albergo vuoto. Un manifesto di 19 punti contiene comunque le richieste dal pagamento dei ristori della legge regionale ai finanziamenti pubblici per acquisire macchinari per la sanificazione, passando per la riapertura immediata di tutte le attività con protocolli sanitari chiari e definitivi, aprendo i confini tra regioni gialle e perfini turistici. Oltre a questo si chiedono l'abbattimento delle aliquote IVA dal 10 al 4% nel settore turistico e della ristorazione e molto altro, compreso il blocco degli affitti, annullamento tari. All'emiciclo, accanto ai lavoratori, anche il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, ma anche altri amministratori come il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio o il consigliere regionale Americo di Benedetto, qualche esponente della lega e associazioni di categoria. Non si può discriminare solo una porzione della società che si occupa di servizi al turismo, sport, natura, attività all'aperto e quindi tutto ciò che ruota intorno a questi servizi, semplicemente perché non siamo in grado di difendere i più deboli. Noi siamo rimasti chiusi, le nostre montagne sono chiusi, i nostri impianti sono chiusi, ma le persone continuano a morire e quindi non possiamo demonizzare soltanto questa porzione della società senza difendere i più deboli. Quindi chiediamo sblocco di tutti i fondi regionali, pagamento di tutto ciò che noi abbiamo fatto dei bandi ormai pendenti da quasi un anno dalla regione Abruzzo e fare in modo che sia gestito il transitorio. Le attività stanno morendo e è inutile che adesso parliamo di ristori che non si sa quando verranno. Noi chiediamo di esercitare il nostro diritto costituzionale che è quello di lavorare. Niente di più.